Musica Buongiorno, ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che tutte le mattine vi tiene compagnia alle 7.30 in diretta poi con le repliche fino alle 8.30, alle 9.10, alle 13.30 e poi sul sito internet occhionotizia.it allora cominciamo subito dal santo del giorno oggi è un santo a cui si ricorre quando per esempio si ha mal di gola o si ha problemi alla gola perché è il santo protettore appunto della gola è San Biagio, San Biagio che è vissuto nel III secolo e c'è una storia che vi leggo in 10 secondi mentre è condotto alla decapitazione viene fermato da una donna che gli si getta i piedi supplicandolo di salvare il figlio che sta soffocando per una lisca di pesce conficcata in trachea Biagio stende le mani sul bambino che in pochi istanti guarisce muore nel 316 sole sorto alle 7.22 tramonterà alle 17.22 vediamo il cielo per oggi che sarà inizialmente nuvoloso questo è il bollettino della protezione civile delle marche avremo possibilità di deboli e locali piovaschi nelle zone dell'entroterra poi dalla serata invece la pioggia sparsa anche a carattere di rovescio sarà più probabile sempre nelle zone interne ma anche sul settore costiero e collinare del centro settentrionale le temperature sono in aumento nei valori massimi per la giornata di domani sabato 4 di febbraio domani ricordo a Fano c'è già il debutto del Carnevale con la presentazione del Pupo com'è la giornata di domani? nelle prime ore avremo deboli precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio nel settore montano e costiero collinare centro settentrionale praticamente come stasera dal tardo pomeriggio invece deboli precipitazioni sparse però solo in montagna il limite delle nevicate è intorno ai 1500 metri le temperature sono in diminuzione nei valori massimi per quanto riguarda la giornata di domenica domenica avremo un cielo parzialmente nuvoloso con in serata deboli precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio soprattutto al nord della regione in diminuzione invece le temperature in particolare quelle minime per quanto riguarda la settimana prossima avremo per lunedì un probabile peggioramento poi il tempo migliorerà e avremo una nuova fase instabile poi dalla giornata di giovedì cominciamo dal Corriere Adriatico a leggere i giornali siamo sulla pagina di Fano il problema dei giocatori quelli che passano ore e ore e spendono una barca di soldi e a volte vanno pure in rovina sono i giocatori patologici ed è raddoppiato purtroppo il numero di queste persone che trascorre ore e ore interminabili in una sorta di limbo perdendo ogni cognizione di ciò che gli sta attorno con lo sguardo fisso su questi monitor con questa voglia di vincere a tutti i costi ebbene la nuova legge introduce un numero verde l'assistenza e i rischi da evitare nelle sale che hanno queste macchinette Renato Claudio Minardi vicepresidente del Consiglio regionale dice occorre coinvolgere i comuni, le scuole, l'ASU, le famiglie e anche i volontari sotto si parla sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico dell'incontro, il secondo sul turismo mare e cultura sono la forza di Fano non gli hotel non sarà proprio così però insomma diciamo che bisogna puntare certamente sulla cultura anche sul mare ma il mare adesso con poche decine di euro si raggiunge anche con degli aerei low cost per cui non credo che la gente scelga Fano per venire al mare c'è tanto mare bello che si raggiunge oggi con i low cost i voli a basso costo in pochissimo tempo e con pochi soldi quindi bisognerà puntare certamente su altro e gli hotel certamente fanno la differenza le indicazioni dell'esperto per la promozione del turismo strutture da qualificare il pupo dicevamo il pupo debutta facendo il verso e i selfie cioè gli autoscatti con i telefonini scattati da tutti i fanesi la maschera è realizzata da Sorcinelli domani prima sfilata in centro storico lo ricordiamo l'appuntamento è fissato alle 16.30 a Borgo Cavour dove questo pupo che si chiama il selfie scatterà vere fotografie preceduto dalle autorità e dall'ente carnevalesca poi dalla musica arabita alcune mascherate c'è anche una delegazione del carnevale di Rastat che è la città tedesca gemellata con noi in piazza anche l'orchestra Rossini e come dicevo un complesso bandistico la musica arabita che eseguirà l'inno poi c'è vedete in questa fotografia a sinistra Orciani l'avvocato e poi Gerardo Tecchi Gerardo Tecchi che è presidente è un fanese della Federazione Nazionale Ginnastica dunque un pezzo grosso il Panathlon Club lo ha accolto lo ha premiato il profeta di volley e ginnastica torna nella amata Fano dirigenti ce n'è uno di troppo organico e regolare in comune a Fano il Movimento 5 Stelle torna ad incalzare il sindaco censurando gli atti incoerenti la squadra è da riorganizzare dalla Valle del Cesano i numeri della Colle Marathon l'anno dei record già ci sono 400 iscrizioni un decimo arrivano dall'estero ci sono prenotati 30 tedeschi 10 americani gli organizzatori parlano di una corsa in grande crescita 10 milioni invece e andiamo a frontone 10 milioni per le aree interne ora c'è il sì della giunta regionale l'obiettivo è un nuovo sviluppo tra turismo e ambiente con le tutele sociali da Senigallia il comune non paga l'affitto e una donna una donna il prossimo 15 febbraio sola e con due bambine a carico una giovane mamma verrà sfrattata perché il comune di Senigallia non ha pagato nei tempi stabiliti il canone di affitto sperava lei almeno di rientrare tra i primi posti della graduatoria per una casa popolare ma probabilmente per questa giovane senigalliese non sarà così tra l'altro va ricordato e qui lo allarghiamo a pieno schermo leggiamo insieme tra gli esclusi invece ci sono molti furbetti che in questo momento magari ci stanno anche ascoltando e che dicono sì sì che lavorano in nero per risultare disoccupati e quindi avere diritto ad un punteggio maggiore addio ad Alvaro sempre dalla cronica in Senigallia amico dei baristi è mascotte del popolo della notte per lui una foto a tutta pagina sul Corriere Adriatico stroncato da una malattia a 66 anni il dolore della famiglia che dice di lui è stato uno spirito libero amato da tutti i funerali ci sono già stati infatti la notizia del suo decesso si è diffusa solo a funerali celebrati messaggi tanti su Facebook da Fabriano invece l'assassino tace e rimane in carcere non basta il braccialetto elettronico il GIP convalida il fermo e respinge la richiesta di domiciliari presentata dagli avvocati di Di Masi e poi la storia che fa venire un groppo in gola quella di Federica che ha soli 25 anni con coraggio ha affrontato la sofferenza una lunga malattia che se l'è portata via il ricordo del vescovo emerito oggi l'ultimo saluto alle 14.30 nella chiesa di San Biagio a Fabriano e poi da Falconare invece le auto che sfrecciano tra gli scolari i genitori sono in rivolta troppi rischi tra le elementare Leopardi e la materna Peter Pan come un circuito da Formula 1 i vigili sono stati allertati contro invece e siamo a Pesaro l'emorragia di turisti bisogna ridurre le tasse e i tributi Varotti il direttore di Conf Turismo che non ha peli sulla lingua per chi segue le cose che dice e sono anche sacrosante come in questo caso Varotti chiede il riconoscimento del danno indiretto per le imprese e una promozione mirata andiamo adesso invece sul resto del Carlino andiamo sulla prima pagina perché anche oggi sulla prima pagina del resto del Carlino c'è il tema ambientale il tema delle discariche sparse un po' in giro per tutta la città e la provincia in questo caso siamo sul San Bartolo dopo la nostra denuncia cioè la denuncia del resto del Carlino l'ente scopre altre tre discariche abusive il titolo è se questo è un parco e poi c'è la notizia che su Matteo Ricci c'è il sindaco di Pesaro c'è un sondaggio un sondaggio che si sta effettuando è una società di ricerca che è utilizzata dal Partito Democratico sta facendo domande su quattro possibili candidati tra cui Biancani Ricci e altri e altri insomma penso che insomma Ricci sta puntando dritto al Parlamento al Parlamento italiano e poi sotto stavolta le coltellate le ha inferte lei lite di coppia in centro ambedue feriti discute con l'ex e invece trova l'auto distrutta lo andiamo a vedere subito allora questa notizia che troverete a pagina 3 del resto del Carlino di oggi l'amore è violento lei aggredisce lui con il coltello paura in centro siamo a Pesaro degenera una lite notturna in un appartamento arrivano i carabinieri è stata usata una lama di 12 cm è il culmine di questo scontro tutte e due sono rimasti feriti la donna è stata denunciata lesioni minacce aggravate l'arma è stata sequestrata la relazione è finita al magistrato è successo in un appartamento del centro di Pesaro questa coppia ha un'età compresa tra i 40 e i 50 anni chiaramente non si sa molto non si sa di più non c'è nessun indizio che faccia arrivare a questa coppia mentre guardate come ha ridotto dopo una discussione con l'ex la ragazza come è stata ridotta l'auto di questa ragazza che dopo aver discusso con l'ex appunto se l'è ritrovata con i vetri in frantumi completamente distrutta in via la marmora una Opel con i vetri devastati vicende da ricostruire i carabinieri indagano per danneggiamento e quindi si è salvato solo il parabrezza per il resto la macchina è stata devastata il fatto è avvenuto la notte tra martedì e mercoledì una ragazza pesarese che insomma stava che ha discusso con il fine dell'ex fidanzato e questo è il risultato invece sulla cronaca di Fano la pagina di Fano del resto del Carlino andiamo a Ponte Sasso i cittadini si autotassano per allontanare l'arrivo dei profughi un progetto per riqualificare l'area ma un ex preside striglia tutti Fausto Antonioni è lui l'ex preside lo cerchiamo con il giallo mentre in questa fotografia vedete un momento del sopralluogo del sindaco di Fano Seri con l'assessore e i proprietari responsabili il consigliere Rapa insomma c'erano un po' tutti per in questo sopralluogo per vedere un attimo dove e come accogliere questi questi profughi che lo ripeto sono minorenni ma andiamo sulle dichiarazioni dell'ex di questo preside Fausto Antonioni Fano deve tornare ai tempi dei ragazzi di Cernobil ospitare e non respingere è vero molti lo ricorderanno ci furono momenti davvero strepitosi strazianti a volte gente che quando se ne sono andati questi ragazzi che sono stati ospitati qua per diverso tempo hanno pianto per settimane tappeto rosso invece per i privati nello sport l'assessore plaude al loro ingresso penso ad una cittadella in zona aeroporto dice l'assessore allo sport Caterina del Bianco mentre sul Cecchi la provincia aveva deliberato rispettando il territorio l'assessore Bravi spiega come si è arrivati alla deroga aumento dell'organico e poi ancora il guerriero Ivan Cottini racconta tutta la sua vita ragazzi il segreto è non mollare mai il modello malato di sclerosi presenta il suo video nelle scuole e lui dice usando un po' come motto sono tornato ad essere felice quando non ho avuto più paura per il domani da Urbino mio babbo malato trattato come un pacco Michelangelo Rossi da Sasso Corvaro a Urbino avanti e indietro negli ospedali solo quando ho minacciato la denuncia da Reavasta 1 si sono mossi ma io a questo punto dice lui non mi fermo Foschi sono indignata quel paziente merita almeno le scuse il consigliere comunale incaricato di seguire la sanità interviene sul caso dell'85enne di Sasso Corvaro la riforma sanitaria dice la Foschi punta su Urbino ma non concede posti letto sufficienti direi che per oggi la nostra rassegna stampa si può concludere qui allora io mi fermo vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi ricordo che per noi della redazione di Fano TV le vostre segnalazioni sono fondamentali quindi non dimenticatevi di segnare e di mettere in agenda nel vostro telefonino il nostro numero telefonico 338 49 68 250 e poi utilizzate qualsiasi sistema per mettervi in contatto con noi non mi rimane altro adesso che augurarvi buona giornata e darvi appuntamento questa sera alle 20.30 cioè occhio alla notizia il telegiornale grazie a tutti